Come diceva il Presidente Mattarella, quelli che hanno accettato l'imposizione autoritaria, che lui chiama persone consapevoli, responsabili, che hanno tutto il mio apprezzamento, fra quelli che hanno accettato l'imposizione dell'obbligo sanitario, della puntura, del Green Pass, e quelli che non l'hanno accettata, che tra l'altro lui così arbitrariamente ficca insieme a quei pochissimi violenti, che sono in tutte le società, il violento è in tutte le società e il violento non ha un'ideologia, il violento non ha una bandiera, il violento è violento. Questa è una divisione che c'è stata, ha comportato gravi problemi psicologici, ma anche economici, perché anche lì c'è stata una discriminazione gravissima che i governi che si sono susseguiti, cioè Draghi, Conte, hanno perpetrato e che quello attuale non sta ancora sanando in nessun modo. Discriminazione a danno dei medici, a danno dei professionisti che sono stati sospesi in qualche modo, discriminazione a danno di chi ha ricevuto aiuti e chi non ne ha ricevuti, anzi, molti li hanno ricevuti inutilmente, adesso vedremo, altri invece non solo non ne hanno ricevuti, ma gli sono stati tolti anche dei soldi smonetizzati, demonetizzati, come si dice. E quando si fanno i ricorsi alla magistratura, questi ricorsi durano anni e anni e anni, addirittura adesso poi parleremo anche del nostro a Google, a Compagnia Cantante, che ci ha tolto tutto il danaro che guadagnavamo prima per le nostre attività di divulgazione, di comunicazione, di produzione di contenuti, una cosa che doveva terminare adesso a gennaio è stata rinviata perché cambia il giudice. Come cambia il giudice? Quello si era fatto un'idea, adesso me lo cambi. Perché l'hai cambiato? Questa è una cosa che noi chiederemo al Presidente e anche del Tribunale di vigilare su questa questione, perché no. Quindi uno Stato che, ma cosa mi dà in cambio? Come mi sta tutelando? Anche se io devo rivolgermi alla magistratura, ci mette anni e anni e anni a darmi delle ragioni, ma noi intanto dobbiamo continuare a pagare stipendi, tasse, contributi, cose. E noi che facciamo? Dove li prendi quei soldi se qualcuno te li ha tolto ingiustamente e tu addirittura hai impiantato un procedimento per riaverli e dura 3, 4, 5 anni? Dov'è l'equità sociale? L'equità sociale? Dov'è? Che tu hai dato milioni e milioni a persone che ne hanno già tanti. Guardate, facciamo solo un piccolo esempio, poi lasciamo anche adesso la parola ai nostri ospiti. Quello che avevamo fatto prima, che avete mostrato prima. Cioè, società, per esempio, questa è open, non è il complottista, pensate. E questi si vantano di fare i faccecari, quindi è la notizia. Guarda qua, 40 milioni di incassi per la signora Ferragni e in più ha ricevuto gli aiuti di Stato. Una barcata, una barcata. Vedete, guarda, nel 2023 però, dice, arrivano soltanto 150 mila euro di aiuti di Stato. Che cazzo servono gli aiuti di Stato a uno che fattura 40 milioni e ne guadagna 30? Vorrei capire a cosa servono. E' il mondo dell'informazione dove in tutto il mondo civile le emittenti indipendenti di informazione non dovrebbero pagare tasse, contributi e cose perché fanno un'attività di pubblica utilità. A noi invece ci avevate detto o fai la pubblicità ai vaccini, vaccini, si eri quelli là, oppure tu non prendi una lira, anzi te leviamo pure gli altri. Ecco, queste sono le cose che un paese civile dovrebbe domandarsi. Non la pistoletta del tizio o il pandoro sempre della biondina lì che abbiamo visto prima. Ma non per noi perché il nostro interesse, per voi! Perché se voi non siete tutelati da un sistema di informazione indipendente, voi fate la fine del Presidente che dice quelle cose che adesso rivedremo ancora una volta perché qualcuno gli ha detto di dirle, senza essere informato da altri, senza avere un panorama di informazioni sulle quali puoi decidere come prevede il metodo scientifico. Io ho una sola informazione, tutte le altre sono zittite, sentite, o per via economica o per via autoritaria. È chiaro che mi forma un'idea e intorno a quella faccio tutto un pane girico. È come un'equazione. Sbaglio il primo calcolo e porto dietro l'errore fino alla fine. E questo è successo. Noi riteniamo che questo sia successo anche al nostro Presidente, al quale stiamo fornendo documentazione inequivocabile dalle fonti alle quali lui si deve per istituzione rivolgere, che dicono che sono accadute delle cose di una gravità eccezionale. Cosa c'è di più grave in un Paese che mettere un gruppo di cittadini contro un altro? Una maggioranza contro una minoranza, ma proprio dal punto di vista ideologico. Cosa c'è di più grave a fare questo? Sulla base di un presupposto falso. Dare fondi a chi ne ha già tanti soldi e non aiutare invece gli altri, soprattutto nel mondo dell'informazione, indipendente, ripeto, indipendente, indipendente, non quella foraggiata dalle multinazionali. Cosa c'è di più grave di questo? No, purtroppo quello che hai detto, per esempio, vorrei ricordare che il Professor Giovanni Dis, che è un professore, mi sembra, di Stanford, che ha un H-Index elevatissimo, nel senso che pubblica da tanti anni, è un autorevolissimo professore di statistica, ha fatto uno studio di livello internazionale, dal quale si evince che il lockdown è stato inutile dal punto di vista della salute e dannosissimo dal punto di vista dell'economia. Allora, lui stesso conferma di essere sotto continue minacce di morte. Quello sì che avrebbe diritto di circolare con un'arma in tasca, ma a vederlo è una persona talmente paciosa e pacata che francamente... Però, capisci, allora si arriva al punto di minacciare di morte, di cercare di escludere dal mondo scientifico un autorevolissimo catedratico come lui, semplicemente perché ha dimostrato, ma con uno studio molto grosso, non uno studio su cento casi, una roba veramente grossa, ma poi non solo lui, l'hanno fatto in tanti altri. Allora, per tornare al discorso che ho detto prima, il richiamo che si dovrebbe fare con tutto il rispetto che si deve alla carica illustre del Presidente della Repubblica è un richiamo come minimo alla coerenza. Cioè, voglio dire, se il Presidente, giustamente, anche nell'ultimo discorso, ha raccomandato di stare uniti, allora uno dovrebbe fare, visto che è una voce così autorevole, dovrebbe fare qualcosa per farci stare uniti. E invece, come hai detto tu, purtroppo ha avallato questo stigma che viene dato nei confronti di quelli che non sono Novax, ma sono persone che hanno cominciato a notare le criticità che c'erano in queste serie sperimentali e hanno cominciato a denunciarle, anche perché, a seguito poi di questa diffusione, oramai, per esempio, l'altro giorno ho visto un altro studio molto interessante e molto grosso su tutto il mondo di questo esperto di statistica australiano che si chiama Raoul, ma assomiglia al nome di Didier Raoul, ma non è Raoul francese, il quale ha fatto vedere i confronti fra la mortalità in eccesso degli anni prima, la mortalità in eccesso degli ultimi tre anni e soprattutto confrontandola, per esempio, negli Stati Uniti, lui dice, nella guerra in Vietnam ci sono stati 60.000 morti in più durante la guerra in Vietnam, adesso dopo la vaccinazione 600.000. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato un certo numero di morti, adesso molti di più. Allora, che cosa succede? Lui giustamente dice, io non sto dicendo automaticamente che è colpa del vaccino, delle serie sperimentali, facciamo però uno studio serio perché l'unico evento notevole e importante che è avvenuto in tutto il mondo è stata la somministrazione di questi serie sperimentali e come mai che in concomitanza con questi e appena si è finito, nel senso che adesso si vaccina l'1-2% e la mortalità in eccesso sta regredendo. Allora, questo si chiede. Evidentemente gli scienziati, i medici che stanno intorno al Presidente della Repubblica ma anche intorno al Papa per cui si arrivano a dire delle assurdità come vaccinarsi è un dovere morale nei confronti degli altri che non è vero nemmeno questo perché è proprio il bugiardino che hai richiamato tu ufficialmente scritto dalla Pfizer dice che al massimo, anche questo chiederei poi a Vanni, non è provato che ti garantisce una malattia meno grave ma contemporaneamente che non è assolutamente in grado di proteggerti dal contagio. Quindi sta succedendo un fatto strano, cioè il Presidente devo dire forse in seguito alle molte pressioni che sono giunte negli ultimi giorni non ha citato fortunatamente quell'altra frase infelice in cui ha già detto pochi giorni, una settimana fa, ha detto ah, il vaccino hanno salvato milioni e milioni di persone. Non c'è uno studio al mondo, anche qua chiedo a Vanni di illuminarci, dove si certifichi questa verità così lanciata perché se sono stati salvati i 20 milioni di morti, anche il Professor Remus è un altro che ogni tanto una volta dice una cosa una volta dice l'altra. Allora, se questa deve essere all'era della consapevolezza, chiudo, non mi pare che ce ne sia tante in giro per la verità, è proprio molto poca. Però noi la stimoliamo, lei stimoliamo. Ecco, contemporaneamente voglio dire cerchiamo di valutare e farei fare un richiamo a questo video che sta girando del Dottor Donzelli della Commissione Medico-Certifiche Indipendente, il quale ancora una volta dice ma noi è anni che chiediamo un confronto e non veniamo nemmeno ricevuti. Allora sto facendo appelli addirittura al Papa, alle istituzioni, chiediamo un dibattito aperto, ma anche a porte chiuse per non creare clamori mediatici in cui però valutare tutte le questioni su, come le chiama lui in inglese, lavori evidence-based, cioè basati sull'evidenza. questo è quello che... quindi è la coerenza che sta mancando e mi dispiace da semplice cittadino ma da grande ufficiale della Repubblica Italiana invitare il mio Presidente a fare esercizio di coerenza.